E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Francesco e oggi come sempre siamo tornati in un nuovo video che da settimana non portavo video e siamo tornati di nuovo ancora un'altra volta Allora, oggi andremo a leggere letture SCP insieme, documenti SCP insieme L'SCP che andremo a leggere oggi è uno dei più famosi, credo molto famosi Ed è l'SCP 173 Allora, volevo portare il SCP 173 perché l'avevo spiegato pure nel video del 162 Quando avevo portato la palla di spina al SCP 172 L'avevo detto che portavo il prossimo SCP 173 Ed eccoci qua, l'ho portato Quindi questo qua è il video dove parleremo, leggeremo il documento insieme di SCP 173 Ma senza perdere tempo, torniamo a noi, andiamo a leggere il documento Elemento SCP 173 Classe dell'oggetto Euclip Procedura speciale di contenimento L'elemento SCP 173 deve essere contenuto in un container prenellemente chiuso Quando il personale deve entrare nel container di SCP 173 Deve fargli un numero non inferiore ai tre elementi E la porta immediatamente rinchiusa da loro spalla Due persone devono mantenere costantemente un contatto visivo diretto con SCP 173 Finché tutto il personale non avrà evacuato e risigillato il container Descrizione Spoil stato al sito 19 nel 1993 La sua origine è ancora sconosciuta Realizzato in calcestruzzo e cemento armato con tracce di vernice spray marca Krylon SCP 173 è animato ad essere un momento ostile SCP 173 non può muoversi mentre è sotto contatto visivo diretto Il contatto visivo con SCP 173 non deve essere interrotto in nessun momento Al personale selezionato per entrare nel container è ordinato avvertirsi a vicenda prima di battere le palpebre È stato rilevato come il soggetto attacchi rompendo le osse in corrispondenza della base del cranio Nel collo o tramite strangolamento In caso di attacco il personale è tenuto ad osservare le procedure di contenimento Per elementi pericolosi di classe 4 Il personale riferisce risuoni simili a pietre e a schianti provenienti da dentro il container Quando nessuno è presente al suo interno Cioè considerato normale ed eventuali cambiamenti di questo comportamento Devono essere comunicati al sopravvisore della vigilanza HMCL In servizio La sostanza marrone rossiccia sul pavimento è un misto di fecci e sangue L'origine di tali materiali è ignota Il container deve essere pulito regolarmente ogni due settimane Beh ragazzi Che dire Questo qua era il documento di SCP-173 Sì lo so è durato poco Quindi diciamo che questo SCP-173 era uno SCP tra i più famosi al mondo della fondazione Ma vabbè ragazzi torniamo a noi E eccoci qua di nuovo ragazzi riuniti Allora siamo tornati a noi Diciamo che SCP-173 è uno tra gli SCP più famosi al mondo della fondazione Cioè è l'unico più famoso della fondazione Assurdo Molto famoso E diciamo che però il fascicolo era molto corto Cioè durava poco Quindi diciamo Che bastate Sappiamo già come SCP-173 Basta mantenere il contatto visivo Ma non smettere di guardarlo Vabbè ragazzi E pure questo SCP-173 abbiamo letto insieme a noi E che dire Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like e iscrivete al mio canale E vai attivando la campanellina E che dire ragazzi E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi